La mia ultima ragazza, il mio soprannome per Shukri è una modella di emigrante o migrante perché? Perché lei in Italia da tantissimo tempo parla italiano e se provate a parlarle in un'altra lingua non vi risponde perché è in Italia e parla italiano che è molto importante ed è da vent'anni che si sente cittadina italiana veramente come ci spiegavi oggi e che fa molto anche per i migranti in Italia come stai facendo a Roma con un progetto che è una città in una città. Buonasera a tutti, devo ringraziare prima di tutto le istituzioni che ci ospitano e la Presidente Boldrini che ci ha accolto e ci ha voluto qui. Poi devo ringraziare Lodovica Rossi Burini che sta facendo la sua resilienza contro la demagogia e provincialismo e pessimismo che ha avvenzato questo progetto così articolato e così ricco di personaggi inusuali la politica quotidiana italiana. E' vero, io non nego il mio passato, ho cominciato il mio lavoro come prima ho fatto il stage per un'ambasciata perché i miei genitori volevano, secondo mio padre era un diplomatico, che io diventassi anche io diplomatica. Però subito ho capito che questo non poteva essere il mio percorso e tutti quando vedono una ragazza carina, per strada consigli che vengono dati sono quelle di ma perché non vai a recitare, ma perché non fai modella? Io ho accettato questi consigli e ho fatto attività come indossatrice e come riaccettrice. Poi ho capito che questo non poteva essere fine della mia esistenza e presto ho abbandonato per una cosa molto semplice perché essendo come ci ha ricordato nostra amica qui una italiana, nuova italiana, io quelli che chiamo della mia categoria degli italiani è cominciato un periodo che ve lo ricorderete, 2008, quando c'era molta discriminazione e i migrati venivano dimonizzati molto e aggrediti fisicamente. Allora da lì ho detto forse è arrivato il momento che assumo un atteggiamento un po' più responsabile e matura, visto che sono una nuova italiana e c'è un lavoro da fare perché questo paese è un paese che ha molto breggi però non ha metabolizzato, non si è reso conto che c'è anche una minoranza etnica. Quello che loro continuano dimagogicamente la media è chiamare sempre immigrazione legando aspetto negativo contingente senza approfondire che c'è una minoranza di ormai 10% origine straniera in Italia e appunto non so se è stato proiettato sito di migrare.eu Migrare è prima nato come un'associazione e prima abbiamo cominciato con Radio Radicale che era uno degli organismi più accessibili a livello della democrazia partecipata di fare con interviste di denuncia però ci siamo resi che questo non bastava e abbiamo detto facciamo qualcosa in più, facciamo un'associazione che possa fare poi l'osservatorio per monitorare il fenomeno dell'immigrazione. Io ho detto a casa mia, a mia famiglia una sera a cena, mi ricordo, ho detto guarda io ho pensato, penso che ci sia bisogno di fare un osservatorio. Mi hanno ascoltato e mi hanno detto sì va bene, è buono, ma che hai pensato che lo devi fare questo osservatorio e io ho pensato a noi, noi dobbiamo prendere iniziativa di fare un osservatorio. Loro non credevano perché gli sembrava troppo importante e onneroso per assumere una responsabilità del genere e si sono messi a ridere, non credevano nemmeno loro che io ho detto guarda io proverò di fare questo, individuare persone che possono fare consiglio direttivo e fare un progetto e vedere questa strada se era percorribile. È diventata percorribile che abbiamo fatto migrare, associazione, radio migrante, una rubrica settimanale che si occupa attualità politica degli immigrati e informativa attraverso tutte le lecce che sono state emanate dentro il Parlamento italiano e in Europa che da 2008 non abbiamo mai saltato nemmeno un Natale, nemmeno un Farragosto, nemmeno un Capodanno e abbiamo fondato poi Migrare.eu che in tre anni, ha tre anni il sito, è uno dei siti più riconosciuti, basta guardare nella materia dell'immigrazione, il motore di ricerca Google lo si vede, siamo contattati tutto il mondo, anche il Parlamento europeo, collaboriamo tutte le istituzioni italiane, locali e nazionali, anche il Dipartimento americano per l'immigrazione, abbiamo collaborazione e rapporto, questo sito, non so se si possa vedere, ci sono anche ragazzi che collaborano. Lo pubblichiamo sul sito del, eh? Lo pubblichiamo sul Rebirth. Perché io ho preso questo, perché adesso io questo, è nato migrare come una resilienza, questo volevo dire, di provare almeno di dare un'informazione e un'identità alla comunità del 10 per cento che sono nuovi italiani. E crediamo se oggi siamo arrivati qui e almeno questo massaggio è abbassata. Però io mi sento sollecitata per una cosa molto importante, che è un'eredità che anche la Presidente Boldrini mi ha lasciato, che ha parlato dell'immigrazione, ha rifugiato, ha parlato e ha parlato di Dadaab e la Somalia. Quindi vorrei, seconda parte del mio intervento, dedicare questo problematic. Il problema dell'immigrazione che arrivano le nostre porte di mare è un problema che ha dei radici lontani. Tutti quanti abbiamo chiara percezione del fenomeno questi giorni. E queste problematiche partono anche dove sono nata io. Io sono nativa di Somalia, di Mogadiscio, è la mia città, dove c'è una migrazione interna sia esterna. Ci sono paracopoli degli immigrati, delle donne immigrate con i bambini, sia a Mogadiscio, interno della Somalia, sia da Dadaab, come Presidente diceva prima, e altri campi in Etiopia e in Kenya. Queste donne, noi abbiamo una società in Somalia che le donne che sono bilasteri principali rispetto altre comunità che lo sono sempre, ma le donne in Somalia si boccia tutto. e vengono delegate sia attività educative, sia formazione dei filii, sia quello di fare attività imprenditoriale, quelle culturali e quelle politiche. In Somalia trovi sia una donna in campi profughi con filii abbandonata a si stessa, come puoi trovare una donna generale nell'esercito somalo quanto c'era ai tempi miei, diciamo che ormai io ho 40 anni in Somalia. Quindi una società così dove la donna è importante, tutto il best del carollo della Somalia di ultimi 22 anni sono stati bossati sulle donne. E le donne sono diventate anche bersaglie dei terroristi dell'Al-Shavab. Come abbiamo visto che l'elettrice precedente ci ha fatto vedere che cosa è successo in Afghanistan, anche in Somalia ci sono gli Al-Shavab che sono affiliati, ispirati dall'Al-Qaeda e addestrati prima in Afghanistan e poi abbrodati in Somalia. C'è un'attività biseudo, cioè maschilismo criminale fascista, farcita di religione che non c'entra a nulla ma fa tutto collante per la loro dimagocione, quella di riclutare i giovani e fare il broselitismo. Tutto questo, le donne stanno centro di questa operazione e sono vittime che vagano. Allora, quando hanno resistito e hanno avuto la resilienza per 22 anni perlomeno le donne somali cercano di allora salvare alla ricerca della rinascita le loro figlie. e i loro figli sono quelli che vengono in Bercone qua da noi, quelli che sono alla ricerca della rinascita. Questi, quando vengono qui da noi, avevo un esempio che sta sul sito che è via dei Villini, che giornalista o società civile o il Parlamento hanno seguito, abbiamo fatto una campagna che ha durato dieci, cioè cinque mesi via dei Villini, i ragazzi di via dei Villini, nove, che era ex ambasciata somala, abbandonata, dove che i profughi e richiedenti asilo che hanno ottenuto già riconoscimento del asilo politico e protezione suicidaria che venivano poi accettati per strada, perché noi in Italia sappiamo che non abbiamo una struttura che è in grado di accogliere e collocare come parti del mondo tipo paesi scandinavi o Canada o Inghilterra ci sono questi brocetti, in Italia noi siamo carenti. Allora, dopo che adesso, come l'avete visto, sono stati accolti e curati, dopo sei mesi, tre mesi, vengono lasciati a si stessi, non parlano la lingua, non conoscono nessuno e diventano barboni. Tant'è che l'anno scorso la statistica che è fatta da Caritas mi hanno detto che 3.000 solo Roma di ex profughi e richiedenti asilo politico sono diventati barboni. Questo mi sembra un'emergenza umanitaria che sta sotto gli occhi di tutti. Allora, oggi noi siamo Parlamento italiano, le sede in cui sono stati manati i provvedimenti più atroci che hanno negato il diritto al soccorso, all'esilo, hanno messo reato di clandestinità ai migranti, hanno fatto pacchetto sicurezza, hanno fatto accordo italo-libico dei rispiencimenti. Grazie, perché se ti abbiamo invitato qui oggi a parlare vuol dire che questo nuovo Parlamento, io non esprimo opinioni su quello passato, perché non ne ho, però è importante che tu sia qui. Io, mi odierete tutti perché devo, vi ho tenuto già qui due ore e ho ancora l'architetto Liebeschi e qualcun altro che deve parlare, per cui io ti chiederei di darci il tuo messaggio di resilience a partire dal tuo progetto. Sì, sì, ma infatti sto arrivando e sto concludendo. Scusami, poi donna, non faccio una bella cosa io, però devo fare una cattiva. Non c'è bisogno di fare cattivi, lo siamo già per rinascere, rinascere ha bisogno di resilienza e quindi noi resistiamo anche a questo. Volevo dire questo, che il Parlamento italiano, noi chiediamo che queste persone hanno fatto la resilienza. Per rinascere dobbiamo chiedere l'abolizione del reato di clandestinità, l'abolizione dell'accordo italo-libico, l'abolizione del rispiencimento indiscriminato e la legge per l'asilo politico che noi non abbiamo, senza le quali questi profughi non possono vedere la rinascita. Grazie. Grazie a te, grazie anche per la flessibilità. Grazie.